Ciao Noemi, tanti auguri per questo settimo compleanno straordinario. Sei una forza della natura, lo diciamo sempre, ci dai una grinta incredibile, tu ci riempi di gioia, in primis alla famiglia e a tutti noi che ti seguiamo con tantissimo affetto e con la stima profonda che ci lega al progetto Noemi e a Noemi, è tutto il suo progetto, è ovvio. E tanti auguri, ci vediamo domenica 2 giugno per tutti gli amici che ci seguono in questo momento su Rete 8 all'Auditorium Sirena per festeggiare questi sette anni straordinari e tante sorprese ci saranno sul palco insieme al sottoscritto e sarà una serata indimenticabile come già quelle passate e sicuramente anche quelle future. Un abbraccio fortissimo, l'energia che possa esplodere sempre di più nei vostri cuori e negli occhi di Noemi. Auguri Noemi!